La Procura di Lecco e Sottorganico, gli avvocati prendono carta e penna al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, Lia Campanieli, Edoardo Pacia, Presidente della Camera Penale di Como e Lecco, hanno scritto una lettera al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano Francesca Nanni, dedunciando la grave situazione di carenza di organico che affligge la Procura del Tribunale di Lecco. In meno di una settimana, si legge, si è perfezionato il trasferimento ad altra sede di un sostituto procuratore ricorso alla maternità anticipata di un altro. Attualmente la Procura di Lecco può contare solamente sul procuratore capo e su un sostituto, i quali devono far fronte alle incombenze dei turni, alla partecipazione alle udienze preliminari e a quelle avanti il Tribunale in composizione collegiale, nonché alla direzione delle indagini di migliaia di fascicoli, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e per il procuratore agli impegni per la carica. Una situazione che preoccupa il senso di responsabilità e l'impegno profuso che caratterizzano l'operato del procuratore e del suo solo sostituto, proseguono gli Avvocati, non sono certo sufficienti a ovviare a una situazione allarmante che rischia di protarsi per alcuni mesi, determinando così un documento alla pronta e regolare amministrazione della giustizia nel nostro territorio. Le condizioni in cui versa una parte processuale, puntualizzano gli Avvocati, possono compromettere il corretto esercizio della giurisdizione penale. Chiude la lettera un appello al procuratore aggenerale. Pur consapevoli della rigidità e delle tempistiche che caratterizzano le procedure per l'applicazione temporanea di ufficio di un magistrato, concludono i legali, auspichiamo un suo intervento per accelerare i tempi tecnici, ovvero per sensibilizzare i sostituti procuratori del distretto, a un'adesione volontaria nella prospettiva di garantire il corretto, quanto almeno il meno disagiato possibile, funzionamento della giustizia penale nell'ambito del circondario del Tribunale di Lecco.